Non viene fatta informazione ma viene passata al tempo, perché le domande ai vari politici del cazzo non vengono fatte le domande importanti. I politici si fanno prima scrivere che domande devono avere, in più gente come noi non sarà mai intervistata perché farebbe delle domande, ma non impertinenti, delle domande vere come chiedere a Salvini dove ha messo l'autonomia, il Nord, tutta roba che si era usata come carta da culo anziché usare il tricolore come usava il Nord. Lei indossa anche, lo faccio vedere, un classico spazzoletto della Padagna. Lei dichiarla sostanzialmente che Salvini ha rinnegato le sue radici? Ma Salvini è diventato italiano, non italiano, la merda della società, perché prima tutelava il Nord, tutelava gli interessi di chi abita al Nord, ovvero siciliani. Bastava che uno abitasse al Nord e arriva alla tutela del proprio territorio. Purtroppo Salvini è cambiato, è diventato il partito nazionale del Sud e dell'autonomia se ne fotte come se ne fanno. Se ne è fissuto Marlonino il 75% dell'ombra. Giorgio Masotto, piacere, grande successorista. Dimostrazioni anche dell'autonomia, del federalismo che comunque non si possono realizzare con questa svolta autoritaria della nuova P2, dell'attuazione del programma della P2, una vergogna. Con Salvini che si è legato al nuovo blocco della massoneria. Per questo si manifesta.